In casa sua, e spero che proprio, cioè giocavo una carte, poi sentivo gente che diceva no, oddio, mi devo togliere questo, non lo so, non voglio azzardare nulla di troppo compromettente Insomma, complici, le pareti sottili, non hai dormito questa notte Eh sì, eh sì, comunque io, a parte tutto, per questa domanda azzardo Piccioni Perché? 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 Perché... Perché l'ho letta Perché... Ah, quindi ti ricordi Sì, mi ricordo Sentiamo il campione Ruben Sempre più forti i concorrenti stanno arrivando, proprio me ne devo andare Va bene, stremato Zio e Giacomo e tipo giuntere a Sara Beh Giacomo Mi fa fatto una figura brutta, mi fa fatto No, no, vai tranquillo, anzi, vedi che il pubblico ti sostiene E invece è incredibile la risposta a questa notizia perché la scienza sta facendo dei passi da gigante e non so dove andremo a finire, visto che hanno messo gli elettrodi nella testa di un piccione e sono riusciti a telecomandarlo praticamente, a farli prendere le direzioni che volevano Abbastanza inquietante Comunque, Franco ha azzardato bene, la sua risposta era giusta e quindi dovrà...